Secondo i dati della questura di Pescara, il primo trimestre 2016 si apre con una diminuzione dei reati di lesioni dolose e violenze sessuali. A diminuire sono anche i crimini contro il patrimonio, come scippi, furti in esercizi commerciali, furti di auto, ciclomotori. Diminuiscono anche le estorsioni, le truffe e le frodi informatiche, dati che riportano l'attenzione sull'efficacia della presenza sul territorio e sul monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine. E oggi, alla presenza del prefetto di Pescara, del questore e del presidente della Pescara Calcio, arriva una notizia sull'implementazione dell'efficacia delle volanti, che entro due mesi verranno dotate di nuovi strumenti per ottimizzare le operazioni delle unità mobili. Si tratta di tablet collegati con tutti i dati delle centrali operative. Il fatto di poter utilizzare una strumentazione all'avanguardia dell'ultima generazione, guardate che non ce l'hanno tutti in Europa e anche in America. Io vado spesso al New York Police Department, quando gli dico le nostre tecnologie, mi guardano sbalardite, è l'assessore alla sicurezza del Comune di New York, che è il capo del Dipartimento, dice ma voi siete così avanti, noi siamo veramente avanti come Polizia di Stato. Quali sono alcune delle funzioni rivoluzionarie? Il fatto di poter controllare, guardate, con la telecamera attiva c'è il controllo targhe, il controllo targhe ti permette di controllare 60 targhe al minuto, perché la targhe viene presa, inviata al cervellone e ci risponde nell'immediatezza. Un'iniziativa voluta dal presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, che ha ricordato l'impegno promosso su tutto il territorio dalle forze dell'ordine, che meritano il sostegno dei privati, facendosi lui per primo promotore e realizzatore. Noi abbiamo un grande rapporto di collaborazione perché giornalmente lavoriamo in collaborazione delle forze dell'ordine per via della gestione della Pescara Calcio. Ci ha illustrato questo progetto, ci abbiamo messo veramente un attimo a dare il nostro assenso perché si tratta della sicurezza, della sicurezza di tutti, di noi tutti, dei nostri figli e quindi come dire no a un progetto del genere.